Siamo qui all'evento che abbiamo organizzato in collaborazione con EOS, Energy at Work, perché parliamo di come riportare energia nelle organizzazioni. Con il professor Giovannini naturalmente ci concentriamo sui temi della sostenibilità e cerchiamo di capire come possono contribuire le imprese per cercare di vincere la sfida della sostenibilità. Senza le imprese non si va da nessuna parte, così come senza i governi, così come i cittadini. Il punto cruciale è che per cambiare il nostro modello di sviluppo servono fondamentalmente tre ingredienti. la tecnologia, la governance e il cambiamento di mentalità. E tutti questi tre aspetti impattano direttamente le imprese. Attraverso le tecnologie le imprese possono produrre beni e servizi a minore impatto ambientale, ma anche più utili per i cittadini. Possono pagare diversamente i propri dipendenti in modo da ridurre le disuguaglianze cosiddette di mercato. possono indicare il futuro delle nostre città attraverso innovazioni tecnologiche, organizzative, strumenti per ottimizzare le decisioni. Ma tutto questo richiede una governance coerente, non basta fare qualcosa in un settore e tutta l'impresa, così come tutto il governo, così come tutta una regione, una città, che deve essere capace di modificarsi in funzione dello sviluppo sostenibile. E per far questo ci vuole una cultura di impresa nuova, perché veniamo invece da un secolo di uno sviluppo chiaramente insostenibile. Ecco, professor Giovannini, lei è anche direttore scientifico di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Ecco, che cosa ci può dire? A che punto siamo realmente rispetto alla cultura anche che bisogna portare all'interno delle aziende proprio per fare questo passo in avanti? Sette anni fa, quando è nata ASVIS, di questi temi veramente non parlava quasi nessuno, pochissime imprese. Oggi se ne parla molto, ma bisogna fare molto di più. Soprattutto dopo il cambiamento dei principi costituzionali per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, avvenuto l'anno scorso, con l'inserimento all'articolo 9 del compito della Repubblica, quindi non solo dello Stato, ma anche delle imprese, della società civile, di noi cittadini, di tutelare l'ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità, nell'interesse delle future generazioni. E l'altro cambiamento importante è quello dell'articolo 41, sulla libertà di impresa, in cui si dice che non è possibile fare impresa a danno della salute e dell'ambiente. Questo richiede appunto un cambiamento profondo nella cultura di impresa, nelle scelte anche urgenti, questo cambiamento, anche alla luce del fatto che l'Unione Europea ha preso seriamente queste questioni e quindi le nuove direttive, per esempio quella sulla rendicontazione non finanziaria, che viene stesa alle medie imprese, ma soprattutto dovrà essere fatta lungo tutta la filiera e non soltanto all'interno di quello che accade nell'impresa, porranno le imprese di fronte a scelte drammatiche da un certo punto di vista. Faccio ancora viaggiare le mie merci con dei tiri inquinanti o le faccio viaggiare su delle ferrovie e faccio solo un esempio. Quindi i prossimi 18 mesi, 24 mesi, credo che siano abbastanza decisivi per avere non solo le imprese che già hanno scelto per la sostenibilità sulla frontiera, ma portare molte altre imprese italiane a eccellere come già fanno in tanti campi. Ecco, bisognerà lavorare nei prossimi mesi, ha detto bene lei, anche perché insomma ci sono dei criteri ISG da rispettare ed è importante proprio fare cultura per fare chiarezza su cosa intendiamo quando parliamo di sostenibilità, cioè è vero i temi ambientali sono importanti, però se non curiamo la parte social e la parte di governance non saremo mai sostenibili anche dal punto di vista ambientale, quindi questo credo sia un messaggio importante da dare. Assolutamente sì, nel senso che se la transizione ecologica ad esempio non sarà giusta, cioè è capace di salvare posti di lavoro, di coinvolgere tutti i cittadini, non ci sarà questa transizione perché le proteste contro questa transizione bloccheranno il cambiamento. È anche un tema di reputazione delle imprese. Sappiamo dai responsabili delle risorse umane di tante imprese che i giovani di maggior talento oggi scelgono le imprese in base all'impegno dell'impresa stessa in questa direzione, quindi se si vogliono attrarre i talenti migliori la scelta della sostenibilità non può essere vaga, deve essere molto concreta. Grazie professore. Grazie a voi.